Allora, questa idea innanzitutto nasce dalla poesia. Vola innanzitutto è una raccolta di poesie, nasce da una silloge, è la mia seconda raccolta poetica. È un racconto di un milione di emozioni che si possono vivere in una relazione amorosa. In particolar modo sono molto contenta perché poi da queste poesie è nato il testo teatrale e da qui l'opportunità di poterlo portare in scena a Pesaro e quindi per questo sono molto grata. A livello registico per me è stato molto interessante portare in scena questo spettacolo che nasce appunto da un'idea di Giulia perché c'è stata la voglia e la ricerca di andare a pescare un personaggio che potesse diventare veicolo di sentimenti che sono universali. Quindi in questo caso Marilyn diventa proprio il simbolo dell'unione, della comunione, delle emozioni che possono appartenere a tutte le donne del mondo. Dall'icona mondiale, da un mito che è stato appunto quello di Marilyn a la donna del giorno d'oggi, quindi a qualsiasi donna del mondo. E la stessa cosa vale attorialmente. È stato per me interessante studiare questo personaggio e mettermi nei panni di una donna così iconica cercando però di andare a scavare nella parte meno scontata del personaggio, quindi andando a ritrovare quelle emozioni che fanno parte della sua vita privata di cui se ne parlava sicuramente molto meno rispetto a ciò che siamo abituati a vedere di un personaggio così iconico, quindi della superficie. E cercando di andare invece appunto a scavare nel profondo, in tutto ciò che ha rappresentato la sua relazione amorosa, le sue relazioni amorose, e trovare lì il punto di comunione con il sentimento umano universale. Quindi per me è stato veramente interessante. Verrà appunto portato in scena proprio questo, la rappresentazione di un amore che può essere condivisibile sia dal personaggio mito alla donna di oggi.